C'hanno chiuso, c'hanno chiuso SONO QUA Merda, aspetta, ho la tattica No, no, levati, levati, ho la tattica Se ti levi ho la tattica Vai, 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 mori Morite Apri, apri di nuovo, apri di nuovo E benvenuti ragazze, bentornati in questo nuovo video Io sono Chris177 E siamo con i ragazzi in compagnia di Di questa bellissima tartaruga Ok, siamo a posto Adesso, bellissimo Siamo in questa bellissima Skywars, ragazzi Ispirata a Pac-Man Quindi Pac-Man su Minecraft, sulla Skywars Sarà una Skywars a team Quindi purtroppo non potrò massacrare il nostro Vince oggi Ma sarei... Saremo complici Eh, le parole No, questa volta vinciamo Non dire parolacce Non dire parolacce Chiamolo a poli Occhiamo a Alexy Hai capito? Ma ho trovato solo pozioni E tu sei full diamond Ma faffanculo Mia Mia, 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 tutto mio Guarda quanto sono full diamond È tutto mio Mi fregato Mi fregato Mi fregato quel putt... Ora sei tu senza pantaloni No, 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 no Dammi i pantaloni Tieni le vacanze di natale e siamo ad otto tieni in merda tieni tieni in merda io mi faccio di me prendi blocchi anche tu vince i blocchi con la mano speech e ma io non blocchi mi sto facendo a te li do io che vabbè tranquillo prendi questi prendi questi che qualcuno iniziamo dimmi se c'è qualcuno che mi targetta così almeno tranquillo tranquillo te lo dico io ti puoi fidare le ultime parole ti puoi fidare oddio ma tu sei shame noi siamo a cap merda io lo faccio da questa parte oddio oddio vince parca paletta vai tu avanti eh sì fermo 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 vieni avanti è un cazzo ma se tipo facessimo il collegamento come tutti i comuni mortali no lento e ho capito ma ne abbiamo una cazzo ti stavo colpendo vince vinciano l'arco ho visto cristian non se l'aspetta cristian cristian non se l'aspetta questa non io ti guardo i guarda morakerось guarda cosa ho imparato guarda cosa imparato non c'hai rimange il cazzo cazzo hands sono casa che ha capito attenziano che lo sta in merda che colore vince tu già ci sono ci sono ammazziamo pappo filippo pappo filippo vai 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 o cazzo abbiamo ucciso pappo filippo ok ho l'acciarino vince possiamo anche per te to sappiamo come esatto andiamo si mira bene vince che cazzo che guarda oddio ma siamo dei pazzi sia ma ma che cazzo vieni qua entra da qui da qui viene qui 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 e poi che cazzo di coincidenza aspetta eh c'entra la scala sono qua merda aspetta ho la tattica non lo levati levati ho la tattica se ti levi bravo bravo bruciali bruciali col fuoco aspetta che c'ho pure la lava io però brucio anch'io così c'ho la lava vince c'ho la lava prenditi la lava merda gliel'ho buttata in faccia sta bruciando tutta vai 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 andiamo c'è una lava andiamo un'idea pazza tipo andare sui carboni ardenti mi sembra un'idea buona oddio no 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 apri che gli butto la lava dentro vai 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 mori morite apri apri di nuovo apri di nuovo dove sei vai via vai via cazzo 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 ok uno l'ho ucciso vince ma voi siete pazzi ma che cazzo dire ma come giochiamo ma siamo malati no no se mi sei morto sei una capra vai 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 è tutto mio è mio è mio dai che mori oh cazzo no 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 ci muoio ci muoio fermi tutti dai che mori dai che mori dai che mori dai che sì sì pezzi di cane aspetta che non muoio pure io ce l'abbiamo fatta abbiamo vinto epico non è uno scherzo e quindi ragazzoli io vi ringrazio tantissimo per la visione invito a lasciare un like un commento di iscrivervi se ancora non avete fatto mi raccomando spolliciate passate sul canale di vince che trovate naturalmente in descrizione passate anche sul canale telegram vi ricordo che in questi giorni cioè 14 15 e 16 sarò al games week di milano quindi mi raccomando siete passate pure e noi che dire ci mettiamo nel prossimo video ah